Grazie Sì, abbiamo operato quattro volte perché non riuscivo, sto sempre sei mesi su stampelle, un po' con tre stampelle un mesi fa, grazie a Dio, abbiamo incontrato un medico, il dottore Silvio Rossi, che mi ha fatto una correzione che praticamente non si pacificava l'osso e mi ha fatto questa infrezzione del sangue che praticamente, dopo detti minuti di anestesia, mi ha svegliato e ho fatto un spaccato e ho detto, Sì, è un po' con teoria, essendo nel nastro, però erano sei mesi che soffriva, non riusciva a camminare senza stampelle e lui con questo, come si dice, metodo di farlo, ho fatto queste cose e il giorno dopo stavo a Milano a girare un'altra transmissione e ho fatto un spaccato. Ma quanto ha fatto anche per te questa voglia di superare la mia vita, perché il rischio è appunto quello di all'arma, di di demoralizzarla, di camminare, però ho la voglia di camminare, la voglia di camminare a fare la mia sport estremi, la carica e l'autismo, la reine e tutte le cose. Sì, 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 sì. E insisto perché molto amo lo sport estremi. Adesso io ho migliorato la vita, perché io mi ero un po' seduto, diciamo, dal punto di vista proprio fisico, non facevo più, non passavo attività sportiva, non facevo tanto. No, no, adesso io faccio tutte le mattine, anzi, io voglio tutti i giorni, anche quelli meno giorni, a fare footing, ho la passeggiata con la veloce, lo faccio io tutte le mattine, perché proprio serve a migliorare la vita. Nel senso, io comincio la giornata proprio in maniera diversa, scarico molto l'attenzione. Io adesso, mi salto ogni mattina, mi salto ogni mattina, perché mi faccio le spaccato ogni mattina, quando mi alzo, perché sono sette mesi, sei sette mesi sul cervello, è stato durissimo per me, specialmente sendo una sportiva, che ama il movimento, le cose che è stato, ora ti dimoralizza, cioè, c'è, è la voglia di alzarti. Stefania, lei lavora? Sì, sono lavorata in un paese, ma c'è la. Lei ha mai avuto problemi con gli altri, si è sentita un po' gli occhi addosso, abitata, perché tra l'altro si è fatto qualcosa di male, però in questi casi si è diventata anche un pregiudizio da parte di un'altra persona. Sì, è vero, mi è capitato, questa volta che mi scantava un po' gli occhi addosso, mi prendeva un ente, io così, però non ho scoperto, però io che mi sentivo diversa, che mi sentivo, io che posso, io di persona che si può adottare magari un po' gli occhi addosso. Sì, è uscito.